Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro, il corso di montaggio gratuito firmato fabioambrosi.it Quest'oggi parleremo di un problema che chi utilizza telefonini ma anche videocamere di fascia bassa spesso deve affrontare ovvero parliamo del disturbo video, cos'è, come evitarlo quando giriamo e soprattutto come rimuoverlo con un plugin questo è l'argomento del video tutorial di questa lezione, anzi dei video tutorial perché i video sono due in questa prima parte vedremo meglio cos'è il rumore video, quando viene generato, perché viene generato e nel prossimo video tutorial vedremo come utilizzare un fantastico plugin per tentare di rimuovere o quantomeno ridurre il disturbo digitale dai video che abbiamo girato con la nostra strumentazione a meno di non avere macchine di fascia alta con i cellulari specie quando lavoriamo con poca luce è inevitabile, ecco, avere un po' di rumore. Ecco, vedremo nel prossimo video come rimuoverlo con un fantastico plugin per Adobe Premiere Pro. Prima però vi ricordo, come sempre, www.fabioambrosi.it sito internet dove troverete l'indice con tutti gli argomenti di questo corso introduttivo ad Adobe Premiere ricordo che da qualche settimana è disponibile anche il corso introduttivo ad Adobe After Effects quindi se volete approfondire quel software cercate sul sito le lezioni che sono in fase di scrittura ma nei prossimi mesi sicuramente faremo grandi passi anche su quel fronte. Se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video e come sempre ricordo cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi. Mettete un like lì e teniamoci in contatto per tutte le novità che riguardano questi video tutorial. Ma iniziamo subito. Cos'è il rumore video? Qui davanti a voi avete un'immagine presa dal sito internet Neat Video che è il software, il plugin che utilizzeremo nel prossimo video tutorial per rimuovere il disturbo. È un'immagine abbastanza chiara che ci dimostra come una clip possa essere soggetta a quella che viene chiamata rumore, grana, disturbo scegliete voi. È evidente che in condizioni di scarsa luminosità o quando lavoriamo con ISO elevati ecco questa grana, questo disturbo venga generato. Come evitare di avere questo rumore in fase di ripresa? Bene, il primo consiglio è quello di scegliere delle videocamere o delle macchine fotografiche con un sensore adeguato. Un sensore troppo piccolo come ovviamente spesso capita sui cellulari può generare maggiore rumore. Anche se devo dire negli ultimi anni si sono fatti grandi passi in avanti e anche gli smartphone di ultima generazione hanno dei software integrati che automaticamente lavorano per rimuovere il disturbo. Quindi diciamo che in linea generale quando acquistate una macchina fotografica o una videocamera prestate attenzione alle dimensioni del sensore. Se mai fatevi ben consigliare. Un altro consiglio chiaramente se non avete a disposizione un'apparecchiatura professionale o una videocamera di fascia alta e siete consapevoli che il vostro dispositivo non può operare bene in condizioni di scarsa luminosità è proprio quello. Cercate di illuminare quanto più possibile la scena. Evitate se non avete questa possibilità offerta da una buona macchina di lavorare ad ISO troppo elevati. Ecco cercate di mantenervi sempre al minimo con gli ISO per quanto è possibile lavorare con le condizioni ambientali che avete. Se proprio tutte queste accortezze non sono sufficienti poi vedremo come rimuovere il disturbo con il plugin Neat Video che vedremo meglio nel prossimo video. Abbiamo due tipi di disturbo quando lavoriamo e quando parliamo di video digitali. Possiamo avere un disturbo di crominanza l'esempio lo abbiamo parzialmente qui credo. Vediamo su Wikipedia. Ecco qua. Wikipedia ci offre un ottimo escursus su questo argomento. Quindi se volete approfondire leggetevi questo fantastico articolo. dicevo il disturbo può essere di crominanza come in questo caso. Vedete che i pixel hanno dei colori a macchia ok differenti l'uno dall'altro. È molto molto evidente e in questo caso il disturbo viene generato quando lavoriamo con tempi di esposizione troppo elevati. Ora questo riguarda la fotografia ma per il video il concetto è abbastanza abbastanza simile. Per quanto riguarda invece l'altro tipo di disturbo che possiamo incontrare abbiamo il disturbo di luminanza. Vale a dire quando in condizioni di scarsa luminosità come si diceva prima aumentando esageratamente la sensibilità del sensore una volta si sarebbe detto la sensibilità della pellicola ecco possono essere generati dei disturbi come quelli che vedete qui in questa immagine. Dei puntini bianchi o un effetto grana ecco che riempie il nostro video. A volte può essere voluto. Alcuni fotografi lo cercano proprio questa questa pasta granulosa. Altre volte magari specie e soprattutto quando si lavora con un video ecco l'effetto è da evitare anche perché il video essendo un insieme una sequenza di immagini in movimento da origine poi ad un effetto sfarfallio ok che può essere voluto ripeto dipende sempre da quello che si vuole ottenere ma spesso e volentieri invece qualcosa da cui si vuole rimanere distanti. Se cercate online trovate anche dei grafici questo lo dico per gli appassionati di fotografia che vogliono entrare ancora di più nel tecnico poi dei commenti a questo video nella descrizione metterò anche il link a questo a questo sito internet che ci fa vedere come diversi dispositivi abbiano una come si dice una sensibilità una gamma dinamica differente. Prendiamo ad esempio una Canon 5D Mark III eccola qua vedete che a bassi ISO tutto sommato la macchina lavora molto bene e a mano a mano che aumentiamo gli ISO chiaramente la gamma dinamica si riduce. Chiaramente questa è una ottima macchina fotografica e non fatevi impressionare da questo crollo che si vede improvviso. Altri dispositivi come per esempio un iPhone ecco hanno una gamma dinamica molto differente vediamo se riesco a renderla a renderle eccoli qua disponibili in contemporanea quindi è la dimostrazione che chiaramente i dispositivi di qualità di fascia alta ecco riescono a generare immagini in condizioni di scarsa luminosità molto molto migliori. Non perdo altro tempo con questo sito dateci un'occhiata mi incollo il link nei commenti e nel prossimo video tutorial vedremo come fare per rimuovere il disturbo dai nostri video con il plugin per Adobe Premiere chiamato Neat Video. Alla prossimo tutorial